Turgenev, il sogno Una piccolina di statura, bionda, con un viso incantevole ma sempre melanconico, con una voce sommessa e stanca e i gesti timidi. In gioventù era famosa per la sua bellezza e sino alla morte rimase attraente e simpatica. Non avevo mai veduto occhi più profondi, più dolci e più tristi e capelli più morbidi e fini e mani più belle. Io l'adoravo e lei mi amava. Ma la nostra vita non trascorreva lieta. Pareva che un misterioso, immeritato e insanabile dolore rodesse continuamente le più intime profondità della vita di lei. Questo dolore non poteva spiegarsi soltanto con la mancanza di un padre, per quanto questa fosse sensibile e mia madre avesse amato appassionatamente il marito e ne serbasse un sacro ricordo. No, doveva esserci qualcosa d'altro, che pur sfuggendomi intuivo, intuivo confusamente ma intensamente, non appena guardavo quegli occhi immobili e dolci, quelle labbra bellissime, anch'essa immobili, non soltanto serrate con amarezza ma come se fossero state impietrite per sempre. Ho detto che mia madre mi amava. C'erano però momenti nei quali essa mi respingeva e la mia presenza le riusciva penosa e addirittura insopportabile. Pareva che allora provasse per me un'involontaria avversione, di cui però sentiva poi orrore, e allora se ne incolpava, piangendo, e mi stringeva forte al cuore. Io attribuivo quei momentanei scatti ostili alla sua malferma salute, alla sua infelicità. È vero che questi sentimenti avrebbero potuto sino a un certo punto essere provocati da non so quali strani e anche, per me, incomprensibili miei scatti di malevolenza e anche delittuosi che a tratti sorgevano in me. Però questi miei scatti non concordavano con i momenti di avversione di mia madre. Mia madre vestiva sempre di nero, come se fosse in lutto. Conducevamo una vita abbastanza agiata, senza però frequentare nessuno. Mia madre aveva concentrato su di me tutti i suoi pensieri e le sue preoccupazioni. La sua vita era intimamente fusa con la mia. Un tal genere di rapporti tra genitori e figli non giova sempre a questi ultimi, anzi, sono piuttosto dannosi. Io ero figlio unico e i figli unici di solito hanno uno sviluppo mentale diverso da quello degli altri ragazzi. I genitori, educandoli, si preoccupano di loro quanto di se stessi. E questo non va. Io non sono cresciuto viziato né cattivo, cose che accadono ai figli unici, ma i miei nervi in quel periodo si sono guastati. Inoltre la mia salute era piuttosto cagionevole, come quella della mamma, alla quale rassomigliavo molto anche nei tratti del volto. Sfuggivo la compagnia dei miei coetanei, schivavo in genere la gente ed ero persino taciturno con mia madre. Soprattutto mi piaceva leggere, passezzare solo e sognare. Sognare! È difficile dire quali fossero i miei sogni. Mi pareva talvolta di trovarmi davanti a una porta socchiusa, dietro la quale si nascondessero misteriosi segreti. Stavo lì e aspettavo languendo, senza varcare la soglia di quella porta, sempre pensando a ciò che si trovava davanti a me e sempre aspettavo, sentendomi venire meno o mi addormentavo. Se avesse in me palpitato una vena poetica, probabilmente avrei cominciato a scrivere versi. Se avessi sentito inclinazione per la religione, forse mi sarei fatto monaco. Ma nulla in me c'era di tutto questo e io continuavo a sognare e ad aspettare. Poco fa ricordai che talvolta io mi addormentavo sotto l'impressione di fantasie e di pensieri vaghi. In genere dormivo molto e i sogni rappresentavano nella mia vita una parte importante. Sognavo quasi ogni notte e questi sogni non li dimenticavo. Davo loro un significato, li consideravo predizioni, cercavo di indovinare il loro misterioso significato. Alcuni di essi si ripetevano di tanto in tanto e che sempre mi appariva strano, strano e straordinario. Uno in particolare mi turbava. Mi pareva di procedere per una strada stretta e malastricata in un'antica città, in mezzo a case di pietra a molti piani e con i tetti aguzzi. Sto cercando mio padre, che non è morto, ma chissà perché si nasconde a noi e vive proprio in una di quelle case. Ed ecco, varco un portone basso e scuro, attraverso un lungo cortile, ingombro di travi e di assi ed entro infine in una piccola cameretta con due finestre rotonde. In mezzo alla stanza sta in piedi mio padre, in veste da camera e fuma la pipa. Non assomiglia per nulla al mio vero padre. È alto, magro, dai capelli neri e il naso aquilino, occhi cupi e penetranti. Dimostra una quarantina d'anni. Non è contento che io l'abbia trovato e neppure io gioisco del nostro incontro e rimango perplesso. Egli si volta leggermente da una parte, comincia a borbottare non so cosa e cammina su e giù a piccoli passi. Poi a poco a poco si allontana senza smettere di borbottare e guardando continuamente indietro al di sopra delle spalle. La stanza si allarga e si dissolve in una nebbia. Improvvisamente mi atterrisce il pensiero di perdere di nuovo mio padre. Mi slancio dietro di lui ma non lo vedo più e non ho altro che il suo brontolio irritato da orso. Il cuore mi viene meno. Mi sveglio e per un pezzo non riesco più a prendere sonno. Per tutto il giorno successivo ho in mente questo sogno e naturalmente non riesco a spiegarlo. Ecco arrivato il mese di giugno. La città in cui vivevo con mia madre in quel periodo si animava in modo straordinario. Moltissime navi giungevano nel porto e moltissime facce nuove comparivano per le strade. Mi piaceva allora gironzolare lungo il mare davanti ai caffè e agli alberghi osservando marinai e altri tipi di ogni specie seduti sotto tettoglie di tela di fronte a piccoli tavolini bianchi con brocche di latta piene di birra. Ed ecco che un giorno passando davanti a un caffè scorse un uomo che immediatamente attirò sopra di me tutta la mia attenzione. Vestito di una lunga casacca nera con un cappello nero calcato sugli occhi stava seduto immobile con le braccia conserte. Rade ciocche di capelli neri gli cadevano sin quasi sul naso le labbra sottili serravano il bocchino di una corta pipa. Quell'uomo mi parve talmente conosciuto. Ogni lineamento del suo oscuro viso giallastro tutta la sua figura era a tal punto impressa nel mio ricordo che non potei fare a meno di fermarmi davanti e non potei non farmi questa domanda chi è quell'uomo? Dove l'ho visto? Quelli sentendo probabilmente la fissità del mio sguardo alzò su di me i suoi occhi neri pungenti. Senza volerlo fece un'esclamazione di meraviglia. Quell'uomo era quel padre che io cercavo e che avevo veduto in sogno. non era possibile che mi sbagliassi. La somiglianza era troppo evidente. Sì, sì, persino quel casaccone a larghe falde che copriva il magro corpo di lui ricordava per il colore e per la foggia quella veste da camera in cui mi era apparso mio padre. Sogno io, forse, pensai. No. È giorno. Tutto attorno rumorezza la folla. Il sole splende vivissimo nel cielo azzurro e davanti a me non esiste un fantasma ma un uomo reale. Mi accostai a un pavolino libero chiesi un bicchiere di birra un giornale e mi sedetti poco lontano da quell'essere misterioso. Sempre col giornale appiccicato al viso continuai a divorare con gli occhi lo sconosciuto. Egli stava quasi immobile e solo a tratti sollevava il capo quasi costantemente abbassato. Era ovvio che aspettava qualcuno. Io continuavo a guardare, a guardare. A momenti mi pareva che tutto fosse frutto della mia immaginazione, che non esistesse alcuna somiglianza e che io fossi preda di un involontario inganno della mia fantasia. Ma quando quello improvvisamente si voltava un po' sulla sedia o sollevava leggermente le mani dovevo di nuovo trattenermi a stento dal fare un'esclamazione di meraviglia e di nuovo vedevo davanti a me il mio padre notturno. Egli infine si accorse della mia insistente osservazione e prima con stupore ma con stizza guardando verso di me mentre era già in procinto di alzarsi fece cadere un piccolo bastoncino che aveva appoggiato al tavolo. Balzai immediatamente in piedi, raccolci il bastone e glielo porsi. Il cuore mi batteva forte. Egli sorrise forzatamente mi ringraziò e avvicinando il suo viso al mio sollevò le sopracciglia e socchiuse un po' le labbra come se qualcosa l'avesse colpito. Siete molto cortese giovane signore presi a dire con voce nasale brusca e asciutta oggi giorno è una cosa assai rara permettete che mi rallegri con voi avete avuto una buona educazione. Non ricordo con esattezza che cosa gli risposi ma tra di noi si intrecciò una conversazione venne a sapere che era un mio connazionale tornato da poco dall'America dove era vissuto per molti anni e dove si preparava a far ritorno. Disse di essere il barone ma non riuscì a capire bene il nome egli come il mio padre notturno terminava ogni sua frase con un incomprensibile borbottio interno volle sapere il mio cognome uditolo che l'ebbe parve di nuovo stupirsi poi mi chiese se abitassi in quella città da molto tempo e con chi gli risposi che vivevo con mia madre e vostro padre mio padre è morto molto tempo fa egli volle sapere il nome di battesimo di mia madre e subito scoppiò in una goffa risata di cui si scusò dicendo che questa era un'abitudine americana e che del resto egli era un grande originale quindi volle sapere dove si trovasse il nostro appartamento glielo dissi l'agitazione che si era impadronita di me all'inizio della nostra conversazione a poco a poco si calmò considerai la nostra conoscenza un po' strana e nient'altro non mi piaceva il sorrisetto col quale mi interrogava il signor barone e non mi piaceva neppure l'espressione dei suoi occhi quando pareva conficcarli in me in essi c'era qualcosa di feroce e di protettivo insieme qualcosa che mi metteva paura quegli occhi in sogno non li avevo veduti che viso strano aveva il barone appassito stanco e nello stesso tempo giovanile ma giovanile in modo antipatico il mio padre notturno non aveva neppure quella profonda cicatrice che attraversava di sbieco tutta la fronte del mio nuovo conoscente e che non avevo notato sino a quando non mi ero maggiormente avvicinato a lui avevo appena comunicato il nome della strada e il numero della casa in cui abitavamo che un negro di alta statura avvolto sino alle sopracciglia in un mantello si avvicinò a lui da dietro e gli batte leggermente su una spalla il barone si voltò e disse ah finalmente e dopo avermi fatto un lieve cenno dal capo si diresse col negro verso l'interno del caffè rimasi sotto la tettoia per osservare l'uscita del barone non tanto per riprendere la mia conversazione con lui non sapevo veramente di che cosa avrei potuto parlare quanto per verificare di nuovo la mia primitiva impressione ma passò mezz'ora passò un'ora il barone non compariva entrai nel caffè percorsi tutti i locali ma non trovai tracce né del barone né del negro entrambi si erano forse allontanati per la porta posteriore cominciai a sentirmi un po' male di capo e per prendere una boccata d'aria mi diressi sul lungomare sino a un vasto parco suburbano piantato circa duecento anni addietro dopo aver passeggiato per circa due ore all'ombra di platani e querce gigantesche tornai a casa appena entrai in anticamera la nostra cameriera mi si precipitò incontro tutta allarmata dall'espressione del suo avviso indovinai subito che durante la mia assenza doveva essere accaduto in casa qualcosa di brutto e seppi infatti che un'ora prima nella camera da letto di mia madre era risonato un terribile grido la cameriera a corsa aveva trovato mia madre in terra colta da uno svenimento che era durato qualche minuto la mamma aveva poi ripreso i sensi ma era stata costretta a colicarsi e aveva un aspetto strano e spaurito non parlava non rispondeva alle domande e continuava a guardarsi attorno e a rabbrividire la cameriera aveva mandato il giardiniere a chiamare il dottore questi era giunto e aveva prescritto un calmante ma neanche a lui esse aveva voluto dire nulla il giardiniere assicurava che qualche minuto dopo il grido che era risuonato in camera della mamma egli aveva veduto uno sconosciuto attraversare di corsa le aiuole del giardino e dirigersi verso il cancello che dava sulla strada abitavamo in una casa a un solo piano con le finestre che guardavano in un giardino piuttosto grande il giardiniere non era riuscito a vedere bene il volto di quel uomo che era magro con un cappello di paglia molto calcato sul capo e una giacca dalle falde lunghe è il vestito del barone mi passò in mente come un lampo il giardiniere non poté raggiungerlo e d'altra parte era stato subito chiamato a casa a cercare il dottore entrai in camera della mamma era a letto più pallida del guanciale sul quale posava il capo riconosciutomi mi sorrisse debolmente e mi tese la mano mi sedetti accanto a lei e cominciai a farle delle domande dal principio non voleva parlare ma alla fine confessò di aver veduto qualcosa che l'aveva atterrita è entrato qualcuno le domandai no mi rispose in fretta non è entrato nessuno ma ho avuto questa impressione mi è sembrato poi tacque e si coprì gli occhi con una mano stavo per dirle ciò che avevo saputo dal giardiniere e raccontarle anche il mio incontro con il barone ma chissà perché le parole morirono sulle mie labbra decisi però di far notare alla mamma che di solito i fantasmi non appaiono di giorno smettila ti prego sussurro lei non tormentarmi ora un giorno saprai e di nuovo tacque le sue mani erano gelide e il polso batteva rapido e irregolare ne feci bere la medicina e mi scostai un po' per non disturbarla per tutto il giorno rimase a letto piaceva immobile e silenziosa solo a tratti sospirava profondamente e apriva spaventata gli occhi tutti in casa eravamo pieni di perplessità durante la notte la mamma fu colta da una leggera febbre e mi fece uscire io però non andai in camera mia ma mi straiai sul divano nella camera vicina ogni quarto d'ora mi alzavo mi avvicinavo in punta di piedi alla porta e ascoltavo tutto era in silenzio ma credo che mia madre non abbia dormito per l'intera notte quando la mattina presto entrai da lei il suo viso era caldato gli occhi splendevano di una luce innaturale durante il giorno si sentì un po' meglio però verso sera di nuovo la febbre crebbe sino ad allora ella si era chiusa in un ostilato silenzio ma poi ad un tratto prese a parlare con una voce spezzata e rapida non delirava le sue parole erano spezzate e fra esse non c'era alcun legame poco prima della mezzanotte ella si sollevò con un moto convulso ero seduto accanto a lei e sempre con voce rapida bevendo senza pausa sorsi d'acqua dal bicchiere agitando debolmente le mani e senza mai guardare cominciò a raccontare si fermava facendo uno sforzo su se stessa e riprendeva era una cosa così strana che pareva venisse in un sogno come se lei fosse assente come se qualcun altro parlasse per bocca sua o la costringesse a parlare ascolta ciò che sto per dirti cominciò non sei più bambino ormai devi sapere tutto io avevo una buona amica ella sposò un uomo che amava con tutto il cuore e fu molto felice con suo marito durante il primo anno di matrimonio andarono tutti e due nella capitale per trascorrervi qualche settimana e divertirsi presero alloggio in un bell'albergo e frequentarono molti teatri e riunioni la mia amica era molto graziosa tutti la notavano e i giovanotti le facevano la corte tra di essi c'era un un ufficiale questi la seguiva dappertutto e dovunque l'andasse vedeva gli occhi neri e malvagi di lui l'ufficiale non fece conoscenza con lei e non le parlò mai si limitava a guardarla sempre in modo insolente e strano tutti i piaceri della vita della capitale erano amareggiati dalla sua presenza ella cominciò a pregare il marito di affrettare la partenza e già erano in procinto di mettersi in viaggio una sera suo marito si recò al club era stato invitato a una partita a carte da alcuni ufficiali dello stesso reggimento cui apparteneva anche quell'ufficiale ella rimase sola per la prima volta il marito tardava di entrare ella allora licenzò la cameriera e andò a dormire d'un tratto provò un senso di raccapriccio e si sentì presa dal freddo e da un violento tremito era parso di udire un leggero rumore dietro la parete come un cane che la schiasse e volse gli occhi verso quella parte in un angolo ardeva un lumino la stanza era tutta rivestita di stoffa d'improvviso qualcosa si mosse in quel punto si sollevò si aprì e dalla parete tutto nero e lungo uscì quell'uomo spaventoso dagli occhi malvagi volle gridare ma non poté si sentì venire meno dalla paura egli le si accostò rapidamente come una vestia selvaggia e le buttò sul capo qualcosa di soffocante di pesante di bianco che cosa sia accaduto poi non ricordo non ricordo qualcosa che pareva una morte un'uccisione quando finalmente si disperse quella nebbia spaventosa quando io cioè quando la mia amica tornò in sé nella stanza non c'era più nessuno per un bel pezzo non ebbe forza di gridare finalmente ci riuscì ma poi di nuovo tutto si confuse davanti a lei poi vide accanto a sé il marito che era stato trattenuto al club sino alle due di notte aveva il viso stravolto cominciò a interrogarla ma non gli disse nulla poi si ammalò ricordo però che è rimasta sola nella stanza e la guardò quel punto della parete sotto la rivestitura apparve una porta segreta e dalla sua mano era scomparso l'anello di fidanzamento un anello di fattura tutta particolare sette stelline d'oro si alternavano a sette stelline d'argento era un vecchio gioiello di famiglia il marito le chiese che cosa fosse accaduto dell'anello ed ella non poté rispondere nulla egli pensò che l'avesse perso lo cercò ovunque ma non riuscì a trovarlo da nessuna parte fu assalito da un senso di angoscia e decise di tornare al più presto a casa e non appena il dottore lo consentì essi abbandonarono la capitale ma figurati il giorno stesso della loro partenza si imbatterono per strada in una barella in cui giaceva un uomo ucciso con la fronte spaccata e figurati quel uomo era precisamente il terribile visitatore notturno dagli occhi malvagi era stato ucciso durante una partita a carte la mia amica si recopò in campagna divenne madre per la prima volta visse alcuni anni col marito egli non seppe mai nulla ma che cosa ella avrebbe potuto dirgli lei stessa non lo sapeva però la felicità di prima scomparve nella loro vita si fece il buio ed essi non riuscirono più a dissiparlo loro due non avevano avuto figli e non ne ebbero dopo e quel figlio la mamma tutta scossa da un tremito si coprì col viso le mani dimmi ora proseguì con forza raddoppiata la mia amica è forse colpevole poteva rimproverarsi qualche cosa ella era stata punita ma non era forse in diritto di dichiarare davanti a Dio che il castigo che l'aveva colpita era ingiusto e allora perché a lei come a una delinquente straziata da rimorsi di coscienza perché il passato doveva affacciarsi dopo tanti anni in modo così terribile Macbeth aveva ucciso Banco e non ci si stupisce che potesse avere delle visioni ma io a questo punto il racconto della mamma si fece talmente confuso e grovigliato che non compresi più nulla ma ormai ero certo che essa non delirava quale sconvolgente impressione abbia prodotto su di me il racconto di mia madre ciascuno potrà facilmente comprendere dalle prime sue parole ho indovinato che essa parlava di sé e non di una conoscente l'errore sfuggito le di bocca non aveva fatto che confermare quello di cui ero quasi sicuro forse era proprio mio padre quello che io ritrovavo in sogno che io avevo veduto nella realtà non era morto come credeva la mamma ma era stato soltanto ferito ed egli era tornato da lei ma era fuggito spaventato dal terrore che aveva destato tutto mi fu improvvisamente chiaro e compresi allora quel senso di involontaria avversione verso di me che sorgeva talvolta in mia madre e la sua perenne tristezza e la nostra vita solitaria ricordo che cominciai a sentire che la mia testa mi girava e la ferrai con tutte e due le mani come per trattenerla ferma ma un pensiero vi si era fitto come un chiodo avevo deciso che a qualsiasi costo avrei ritrovato quell'uomo perché a quale scopo non me ne rendevo conto ma ritrovarlo ritrovarlo era divenuto per me questione di vita o di morte il mattino seguente la mamma si era finalmente calmata la febbre era scomparsa ed essa aveva preso sonno dopo averla raccomandata alle cure dei miei padroni di casa e dei servi iniziai le ricerche mi diressi anzitutto come logico al caffè dove avevo incontrato il barone ma nel caffè nessuno lo conosceva e gli aveva mai fatto caso era un avventore casuale il negro invece era stato notato dal proprietario la sua figura saltava troppo agli occhi ma non sapevano chi fosse dove abitasse e nessuno fu in grado di darmi alcuna indicazione dopo aver lasciato per qualsiasi avvenienza il mio indirizzo al caffè cominciai a percorrere le strade lungomare nelle vicinanze del porto i viali guardai in tutti i locali pubblici ma in nessuna parte trovai alcuno che assomigliasse al barone o al suo compagno poiché non avevo inteso bene il nome del barone mi mancò la possibilità di rivolgermi alla polizia tuttavia informai due o tre tutori dell'ordine pubblico a dire il vero mi guardarono con un certo stupore e non credettero affatto alle mie parole e promisi che avrei ricompensato generosamente il loro zelo se fossero riusciti a trovare le tracce dei due individui la cui descrizione cercai di fare nel modo più preciso possibile dopo aver continuato le mie ricerche sino all'ora di pranzo tornai a casa sfinito dalla stanchezza la mamma si era alzata dal letto ma in quel senso di consueta tristezza si era inserito un non so che di nuovo quasi un'incertezza pensosa che mi feriva il cuore come una lama di coltello la sera mi posi a sedere accanto a lei non ci scambiamo alcuna parola essa disponeva le carte per un solitario e io in silenzio seguivo il suo gioco non fece il minimo accenno né al suo racconto né a ciò che era accaduto la vigilia come se ci fossimo segretamente messi d'accordo per non sfiorare neppure quei paurosi e strani avvenimenti pareva che lei provasse un senso di irritazione contro se stessa e di vergogna per quanto si era involontariamente lasciata sfuggire e probabilmente non ricordava bene quanto aveva detto in quel semidelirio e sperava che io la risparmiassi e in realtà io lo facevo e lei lo sentiva come la sera prima cercava di evitare il mio sguardo non potei chiudere occhio per tutta la notte fuori si era improvvisamente scatenata una tempesta il vento urlava e soffiava furioso facendo tintinnare i vetri delle finestre per l'aria correvano fischi striduli e disperati come se qualcosa su in alto si lacerasse e con un pianto sfrenato passasse sopra le case sussultanti poco prima dell'alba mi assopii e subito provai l'impressione che qualcuno entrasse nella mia stanza e mi camasse pronunciando a voce bassa ma ferma il mio nome sollevai il capo e non vidi nessuno ma strano non solo non mi spaventai ma mi sentii invaso da un senso di gioia in me era nata la certezza che avrei senza fallo raggiunto il mio scopo mi vestii in fretta e uscii di casa la tempesta si era placata ma si sentivano ancora gli ultimi suoi fremiti era ancora presto non c'era ancora la gente per le strade e in molti posti giacevano mucchi di rottami di camini di mattoni assi di steccati sparpagliati qua e là rami di velti che mai sarà accaduto questa notte in mare mi venne da pensare alla vista delle tracce lasciate dalla tempesta avrei voluto andare al porto ma le mie gambe come se obbedissero a un'irresistibile forza mi portarono da un'altra parte non erano trascorsi dieci minuti che già mi trovavo in una zona della città che non avevo mai visitato non camminavo in fretta procedevo senza fermarmi un passo dopo l'altro con una strana sensazione in cuore attendevo qualcosa di straordinario di impossibile e nello stesso tempo era certo che questa impossibile cosa sarebbe avvenuta ed ecco che l'impossibile l'inatteso si verificò d'un tratto a una ventina di passi da me scorsi il negro che nel caffè aveva parlato col barone in mia presenza avvolto nello stesso mantello che già gli avevo veduto addosso come se sbucato da sottoterra e volgendomi le spalle camminava a passo svelto sullo stretto marciapiede di una stradina tortuosa mi lanciò immediatamente dietro al negro ma lui raddoppiò il passo e senza voltarsi svoltò all'improvviso dietro l'angolo di una casa che sporgeva io raggiunsi di corsa l'angolo e lo doppiai con la stessa velocità di quell'uomo che miracolo innanzi a me si stendeva una stretta e lunga strada deserta la nebbia mattutina la volgeva di una pannata luce plumbea ma il mio sguardo la penetrò sino in fondo riuscì a contare tutti i suoi edifici però non vi dimuovere alcun essere vivente l'alta sagoma del negro avvolto nel mantello era svanita con la stessa maniera repentina con cui era apparsa rimasi sbalordito ma solo per un momento un'altra sensazione si impadronì di colpo di me quella strada deserta lunga muta e come morta che si stendeva dinanzi ai miei occhi io la conoscevo era la strada del mio sogno preso da un sussulto mi stringo nelle spalle il mattino è così fresco e subito senza la minima esitazione con lo sgomento della certezza vado avanti comincio a cercare con lo sguardo ed ecco ecco a destra all'angolo del marciapiede ecco la casa del mio sogno ecco il vecchio portone con gli svolazzi di pietra ai due lati ma le finestre della casa non sono tonde bensì quadrangolari questo però non ha importanza busso al portone busso due volte tre volte più forte sempre più forte il portone si apre lentamente con un pesante scricchiolio come se sbadigliasse davanti a me stava una giovane domestica scarmigliata e con gli occhi pieni di sonno si capiva che doveva essersi svegliata proprio allora abita qui barone le domando mentre con una rapida occhiata percorro il profondo e angusto cortile così tutto così anche le travi e le assi che vedevano ai miei sogni no mi risponde la domestica il barone non abita qui come no è impossibile ora non c'è è partito ieri dove è andato in america in america ripetei volontariamente e tornerà la cameriera mi diede un'occhiata sospettosa questo non lo sappiamo può darsi che non torni ed è molto tempo che abitava qui non molto da una settimana ora non c'è più e qual è il cognome del barone la domestica mi fissò non conoscete il suo cognome noi lo chiamavamo semplicemente barone ehi piotr gridò la giovane vedendo che io cercavo di andare avanti vieni un po' qui c'è qui un tale che mi fa una quantità di domande dall'interno della casa comparve la goffa figura di un robusto operaio chi c'è che volete domandò con voce rauca e dopo avermi ascoltato con aria truce ripetè ciò che aveva detto la domestica e chi abita qui allora dissi io il nostro padrone chi è il vostro padrone un falegname in questa strada sono tutti i falegnami si può vederlo impossibile ora sta dormendo e si può entrare in casa non si può andatevene beh e più tardi si potrà vedere il vostro padrone perché no si potrà si può sempre è un commerciante ma ora andatevene non vedete come presto beh e quel negro domandai all'improvviso l'operaio guardò con imbarazzo prima me poi la domestica quale negro disse infine andate signore potete tornare più tardi parlerete col padrone tornai in strada il portone sbatté alle mie spalle con un colpo brusco e pesante questa volta senza scricchiolio osservai attentamente la strada e la casa e me ne andai ma non mi diressi a casa provavo qualcosa di simile alla delusione tutto ciò che mi accadeva era tanto strano e straordinario eppure sembrava che stesse per finire in maniera così stupida ero certo convintissimo che avrei veduto in quella casa la stanza che ben conoscevo e nel mezzo di essa mio padre il barone in veste da camera con la pipa in bocca e invece di questo un falegname il padrone di casa che si poteva andare a trovare a piacere e magari ordinargli dei mobili e mio padre era andato in America che cosa mi restava ora da fare raccontare tutto a mia madre oppure seppellire per sempre il ricordo di quell'incontro non ero decisamente in grado di rassegnarmi al pensiero che a un inizio che aveva tanto del soprannaturale del misterioso potesse seguire un finale così insensato e comune non ebbi voglia di ritornare a casa e mi tirassi fuori città dove mi portarono le gambe camminavo a testa bassa senza pensieri quasi senza sensazioni ma tutto sprofondato in me stesso un rumore ritmico sordo e stizzoso mi trasse dal mio torpore sollevai il capo era il mare che a cinquanta passi da me rumoreggiava mi accorsi di camminare sulla sabbia delle dune agitato per la tempesta della notte il mare biancheggiava di spuma sino all'orizzonte e violente ondate rotolavano a turno infrangendosi rabbiosamente contro la riva piatta mi avvicinai e camminai lungo il tracciato lasciato dal flusso riflusso delle onde sulla sabbia striata di giallo cosparsa di brandelli di vischiose erbe marine di frantumi di gusci di gambero e dei nastri sinuosi delle alghe i gabbiani dalle ali aguzze giungendo a volo sul vento con stridule grida dalle lontanze aeree si sollevavano bianchi come la neve nel grigio cielo nuvoloso ricadevano a piombo e come saltando da un'onda all'altra risalivano ricadevano simili a spruzzi d'argento tra le fasce spumeggianti osservai che taluni di essi tenacemente sospesi su un grande scoglio si azevano solitari in mezzo all'uniforme distesa delle rive sabbiose una ruvida erba marina cresceva a ciuffi irregolari su un lato dello scoglio e là dove gli steli aggrovigliati spuntavano dal dall'astro terreno salifero nereggiava un non so che di lungo non molto grande osservai attento laggiù giaceva un oggetto scuro giaceva immobile accanto allo scoglio quell'oggetto si faceva più distinto sempre più distinto a mano a mano che andavo avvicinandomi non ero distante dallo scoglio più di 30 passi ma quello era un corpo umano era un cadavere affogato e sbattuto là dal mare mi avvicinai di più era il cadavere del barone di mio padre mi fermai impietrito soltanto allora mi accorsi che sin dal mattino urgevano entro di me oscure forze che io ero in loro potere e per alcuni minuti nulla rimase nel mio animo all'infuori dell'incessante sciabordio del mare e di un muto sgomento dinanzi al destino che mi dominava egli giaceva sul dorso leggermente riverso da un lato con la mano sinistra dietro il capo la destra era nascosta dal capo ripiegato una melma vischiosa lambiva la punta dei piedi calzati da alti stivali da marinaio la corta giacca azzurra tutta intrisa di sale marino non si era sbottonata una sciarpa rossa strettamente annodata gli avvolgeva il collo il viso bruno rivolto al cielo pareva soggignare di sotto il labbro superiore contratto si intravedevano i denti fitti e piccoli le pupille senza luce degli occhi semiaperti avevano appena risalto sul bianco abbuiato coperti dagli spruzzi di schiuma i capelli aggrovigliati lambivano la terra e lasciavano nuda la fronte liscia dalla cicatrice violacea il naso appuntito si rizzava come una linea tagliente tra le guance incavate la tempesta della notte aveva compiuto l'opera sua egli non avrebbe veduto l'america l'uomo che aveva offeso mia madre che ne aveva distrutta la vita l'uomo che era mio padre sì mio padre e di questo non potevo avere dubbi giaceva disteso nella melma ai miei piedi senza vita provai un senso di vendetta soddisfatta insieme di pena di disgusto e di terrore di doppio terrore per ciò che vedevo e per ciò che era stato compiuto quella malvagità quegli istinti di delinquenza di cui ho già parlato quegli stessi incomprensibili impeti si sollevavano in me e mi mi soffocavano ah pensavo ecco perché io sono così ecco è il sangue che parla stavo ritto accanto al cadavere guardavo e aspettavo ma non si muovevano forse quelle pupille spente non fremevano quelle labbra irrigidite no era tutto immobile persino l'erba tra cui l'aveva sbattuto la risacca era morta persino i gabbiani volavano via non c'era lì attorno né un rottame né un pezzo di legno né un brandello di corda e vuoto ovunque soltanto lui e io e il mare che rumoreggiava lontano mi volsi indietro a guardare da certo anche là una catena di colline senza vita all'orizzonte null'altro mi faceva orrore abbandonare quel disgraziato in quella solitudine in mezzo alla fanghiglia del litorale preda di pesce e di uccelli una voce interna mi diceva che dovevo cercare qualcuno chiamare gente non per dargli aiuto ma che serviva ormai ma almeno per portarlo al riparo ed ecco che un indicibile sgomento mi assalì di colpo ebbi l'impressione che quel morto sapesse che io ero venuto lì e che fosse stato proprio lui a predisporre quell'ultimo incontro e mi pareva anche di sentire quel noto rauco borbottio correndo mi allontanai e mi volse ancora a guardare una volta qualcosa di scintillante mi colpì gli occhi e mi fermò era un cerchietto d'oro nella mano rattrappita del cadavere riconobbi l'anello di fidanzamento di mia madre rammento che mi imposi di tornare indietro di avvicinarmi di chinarmi ricordo il contatto vischioso delle dita gelide ricordo come ansimai come chiusi gli occhi come strinsi i denti mentre strappavo l'anello che non volevo uscire dal dito finalmente ci riuscii e presi a correre a correre a perdifiato mentre mi pareva che qualcosa mi inseguisse e mi raggiungesse e mi afferrasse tutto ciò che avevo provato e sentito doveva essere scritto sul mio volto allora che tornai a casa la mamma appena entrai in camera sua si raddrizzò di colpo e mi guardò con occhi così insistentemente interrogativi che io dopo aver tentato inutilmente di spiegarmi finì col tenderle in silenzio l'anello essa si fece paurosamente pallida gli occhi le si spalancarono in modo straordinario e persero ogni luce di vita come quelli di lui diede un grido afferrò l'anello barcollò e mi cadde sul petto e parve venir meno rovesciando indietro il capo e divorandomi con quegli occhi sbarrati da pazza io la strinsi alla vita con tutte e due le brazza e senza muovermi senza cambiar posto e senza fretta le raccontai a voce sommessa tutto senza nascondere il minimo particolare il mio sogno l'incontro e tutto il resto ella mi ascoltò sino in fondo e non disse mai una parola soltanto il suo respiro si faceva sempre più ansimante d'un tratto i suoi occhi si ravvivarono e si abbassarono infilò l'anello nell'anulare e scostatasi un po' prese la mantiglia il cappello le chiesi dove volesse andare ella mi rivolse uno sguardo attonito e tentò di rispondermi ma la voce le fallì fu percorsa da alcuni brividi si fregò le mani come se volesse riscaldarsi e infine disse andiamo subito là dove mamma? dove già sei lui? voglio vedere voglio sapere io so io so tentai di persuaderla a non andarci ma poco mancò che le prendesse un attacco nervoso compresi che era impossibile opporsi al suo desiderio e ci incamminammo ed ecco che di nuovo mi trovo a camminare lungo il litorale ma questa volta non più solo tengo la mamma sotto braccio il mare si è ritirato è andato ancora più lontano si è calmato ma la sua debole voce è sempre minacciosa e malvagia ecco finalmente apparire davanti a noi lo scoglio solitario e l'erba marina mi guardo attorno cerco di distinguere l'oggetto tondeggiante che giaceva per terra ma non scorgo nulla ci facciamo più vicini involontariamente rallento il passo ma dov'è quella cosa immobile nera soltanto gli steli delle erbe nereggiano sulla sabbia ormai asciutta siamo presso lo scoglio il cadavere non c'è più ma al punto in cui esso giaceva è rimasto un affossamento ed è facile intuire dove avesse posato le gambe e le braccia l'erba all'inziro pare calpestata e si notano le tracce di un piede umano le tracce si susseguono sulla sabbia e si perdono dopo aver raggiunto il terreno sassoso la mamma e dio ci guardiamo paventati da quanto leggiamo sui nostri visi possibile che si fosse alzato da solo e allontanato sei sicuro di averlo veduto morto mi domandò la mamma non potei fare altro che annuire col capo non erano ancora trascorse tre ore da quando mi ero chinato sul cadavere del barone qualcuno l'aveva trovato e portato via bisognava andare alla ricerca di chi avesse fatto ciò e sapere che cosa fosse accaduto ma era prima necessario che mi occupassi della mamma mentre stavamo procedendo verso il posto fatale la febbre l'aveva assalita ma ella era ancora padrona di sé la scomparsa del cadavere la colpì come la definitiva sventura era come impietrita temetti per la sua ragione a gran fatica la ricondusti a casa la feci di nuovo mettere a letto chiamai ancora il dottore ma appena la mamma si fu ripresa un po' pretese che io andassi immediatamente a cercare quell'uomo ubbidì ma nonostante io tentassi addirittura l'impossibile non scoprì nulla mi recai parecchie volte alla polizia visitai tutti i villaggi vicini feci pubblicare avvisi sui giornali cercai informazioni da ogni parte ma tutto fu inutile in verità mi giunse la notizia che in uno dei villaggetti litoranei era stato portato un annegato mi ci precipitai ma era già stato seppellito e i suoi connotati non corrispondevano affatto a quelli del barone venne a sapere su quale nave si era imbarcato per l'America sulle prime tutti furono convinti che il piroscafo fosse andato perduto durante la tempesta ma qualche mese dopo cominciò a correre voce che la nave era stata veduta all'ancora nel porto di New York non sapendo che decisione prendere risolsi di mettermi alla ricerca del mio negro gli offerse attraverso i giornali una notevole somma di denaro se si fosse presentato a casa nostra e un negro alto avvolto in un mantello venne realmente da noi in mia assenza ma dopo aver rivolto una quantità di domande alla domestica si allontanò di colpo e non si fece più vedere così perdette ogni traccia di mio padre e così egli scomparve per sempre nel silenzio delle tenebre la mamma io non parlavamo mai di lui una volta soltanto rammento e la si meravigliò che io non le avessi mai accennato prima del mio strano sogno e aggiunse vuol dire allora che lui non completò il suo pensiero la mamma fu per lungo tempo malata ma anche dopo la guarigione i nostri rapporti non ritornarono quelli di una volta e davanti a me rimase a disagio sempre sino alla morte sì veramente a disagio e a questo dolore non fu possibile trovare rimedio via via che si attenuano i ricordi dei più tragici avvenimenti familiari perdono a poco a poco la loro forza scottante ma se un senso di imbarazzo si stabilisce tra due intimi parenti non è più possibile che si riesca a cancellarlo non mi apparve mai più il sogno che mi aveva così angosciato non cercai più mio padre ma talvolta mi è parso e mi pare ancora di sentire in sogno delle grida lontane dei lamenti incessanti e dolorosi e od ancora qua e là dietro a una parete attraverso la quale non è possibile passare mi schiantano il cuore e io piango a occhi chiusi e non sono in grado di capire che cosa sia è una creatura viva che geme o ciò che sento è l'urlo prolungato e selvaggio del mare in tempesta ma ecco che tutto si trasforma di nuovo in quell'animalesco borbottio e io mi riaddormento con l'anima colma di angoscia e di terrore e di terrore e di terrore